Il nuovo gonfalone della Regione Bruzzo, la nuova bandiera di tutti gli abruzzesi. Lo stemma della Regione Bruzzo diventa un'autentica opera d'arte con la firma del maestro Mimmo Paladino. Il poliedrico artista, principale esponente della transavanguardia italiana, è stato scelto come attore principale del percorso di restyling del logo deciso dal Consiglio regionale e approvato con la legge regionale 29 luglio 2022, numero 13, modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2023, numero 59. Nel nuovo gonfalone realizzato dal maestro Paladino compare per la prima volta, oltre al tradizionale scudo sannitico a tre fasce di colori, una delle figure iconiche dell'Abruzzo, l'effigie della scultura del guerriero di Capestrano. La presentazione oggi a Chieti nel Museo Nazionale Archeologico d'Abruzzo Villa Frigeri. Il Presidente della Regione Marco Marsilio e il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. A noi piace pensare che restituiamo al guerriero di Capestrano la sua antica funzione, custode a protezione del proprio popolo. È stato da parte del Consiglio regionale un grande salto di qualità, un salto in avanti per il superamento delle divisioni e dei campanilismi che hanno spesso diviso, frammentato e indebolito l'Abruzzo. È stato importante che l'approvazione del nuovo stemma sia avvenuta all'unanimità, perché uno stemma, un simbolo, non appartiene a un partito o a una maggioranza, ma appartiene a tutti e questo così deve essere sentito e presentato. Il guerriero di Capestrano da oggi campeggia sul nostro gonfalone e io spero che possa scaldare i cuori e proteggere davvero il popolo abruzzese. Dalla ricerca storiografica che abbiamo effettuato con esperti del settore, il guerriero di Capestrano che è alle mie spalle, ci è apparso certamente il ritrovamento archeologico più antico di un re che ha abitato le terre abruzzesi e che trovasse nella scritta l'epinio del vecchio, ovvero tra le genti italiane le più forti, il sentimento più vero che unisca gli abruzzesi, che è un popolo forte e gentile. Ora, simbolicamente cambiamo il gonfalone, formalmente vogliamo chiudere il capitolo dei campanilismi e dire a tutti gli abruzzesi che sono uniti da una nuova bandiera che oltre ai colori del paesaggio splendido dell'Abruzzo che conoscono bene quanto me e meglio di me hanno anche un simbolo nobile dell'antica civiltà abruzzese in cui riconoscersi.